Siamo con Stefano Maniscalco alle World Series of Boxing, un incontro fortuito che abbiamo fatto qui ma ci fa molto piacere vedere un grande karateka a una serata di pugilato, di grande pugilato qui a Milano. Sì, beh, Emilio, ciao a tutti, buonasera, è un bellissimo evento, quando sono entrato ho visto subito un grandissimo pubblico, sono contento di essere qua perché comunque ho visto dei pugili a un grandissimo livello tecnico e poi ci sono tutti che sono anche dei miei amici come Domenico Valentino, Clemente Russo che sta combattendo, Mangia Capre che sono dei grandissimi professionisti, si stanno cimentando anche le World Series e ho visto, devo dire la verità, ho visto una grandissima box e mi piacerebbe un domani vedere anche un'organizzazione nel mondo del karate, agli arti marziali o di questo genere. Sì, perché è stata una bellissima serata proprio di spettacolo oltre che di sport, un grande pubblico, come l'hai visto? Bene, bene, ho visto un grandissimo pubblico, sono venuto da Roma, qui a Milano, sono stato invitato e sono contento di aver visto questo pubblico e devo dire che comunque oltre il livello tecnico della box ho visto anche un pubblico competente perché sentivo parlare molti artisti marziali, molti boxers a questo evento. Bene, grazie Stefano e alla prossima. Grazie a voi, ciao.